esaurito aveva una foto ma ho capito che c'è una domanda esatto professor monti fa una domanda sotto corona momento televisivo epico prego professor certo posso alzarmi la lezione oltre che la domanda prego si alzi le vorrei fare una domanda con quella semplicità di dialogo che c'è in noi per il fatto che siamo colleghi come lei sa insomma è un meteorologo anche no però siamo entrambi ufficiali dell'aeronautica militare quello sì sicuramente io sono tenente dell'aeronautica militare io sono arrivato a capitano poi insomma va bene la domanda è nella meteorologia esiste il sovranismo allora è impegnativa qualcuno tenta di qualcuno tenta di di organizzarsi le cose per la sua nazione perché hai fatto questa domanda per essere più preciso lei è sovranista e anzi direi irredentista e irredentista corso nel praticare la meteorologia allora la corsica in italia sotto corona questa è una cosa che mi che mi rimproverano spesso perché le previsioni sulla corsica allora i motivi sono due il secondo non ve lo dico il primo è che la corsica dal punto di vista geografico è proprio inserita nei nostri mari e le perturbazioni che arrivano da ovest passano prima su sardegna e corsica che sono l'avamposto quindi sono un po la spia non a caso molti ascoltatori toscani ci dicono meno male che lei fa le previsioni sulla corsica perché quello che succede in corsica poi avviene anche da noi la seconda va beh ve la dico io adoro la corsica perché è un posto meraviglioso la prima non non la condivido perché lei spesso fa previsioni su quello che succede in spagna in francia perché riguarda l'italia e questo è l'ultimo passaggio non le include monti non lo include obiezione accolta secondo me è un irredentismo che lei è nato quando lei era la scuola di caprero e professore i miei segreti va bene questo rimarrà un momento epico la televisione italiana questo dialogo sulla corsica abbiamo scoperto che totocorone è sovranista ragione a ragione monti perché la giustificazione che ha dato metereologa faceva un po acqua da tutte le parti